Il ritorno dell'amore, Pamela Prati svela il mistero dell'uomo accanto a lei. Se i nostri contenuti ti piacciono, metti un mi piace ed iscriviti al canale. Il cuore di Pamela Prati m'è tornato a battere di nuovo. Dopo la fine della sua breve relazione con Marco Bellavia, la showgirl è apparsa sui social al fianco di un misterioso uomo, sollevando curiosità e speculazioni. Ma chi è davvero quest'uomo, che sembra essere molto più di un semplice amico? Le risposte sono ancora a volte nel mistero. Nell'immagine condivisa da Pamela Prati sui social, la showgirl passeggia sotto braccio, con il suo compagno misterioso. L'uomo, alto con capelli lunghi raccolti, viene ritratto di spalle, proprio come Pamela. La didascalia che accompagna l'immagine recita «Ho sognato di te, come si sogna della rosa e del vento», lasciando intendere un legame speciale tra i due. La foto è stata scattata durante una passeggiata notturna, e completata solo con due cuori azzurri e una rosa rossa. La reazione dei follower non si è fatta attendere, con molti che hanno ironizzato sul post, ricordando il caso di Mark Cotterone, l'ex fidanzato immaginario della showgirl. Alcuni commentatori hanno espresso speranza, che questa volta sia la volta buona, mentre altri hanno espresso scetticismo riguardo al mistero intorno all'uomo, ritratto di spalle. Pamela ha risposto ironicamente alle domande dei suoi seguaci, mantenendo il segreto sull'identità del suo cavaliere. Nonostante le speculazioni e le supposizioni, solo il tempo dirà chi sia davvero l'uomo misterioso, accanto a Pamela Prati. Ai fan e i curiosi dovranno aspettare pazientemente che il Tag sveli finalmente il suo nome e la sua storia. Nel frattempo, auguriamo a Pamela tutto il meglio, e speriamo che questa nuova intensità le regali la felicità che merita.